Io penso che i ragazzi hanno giocato gente che non giocava da nove mesi, Schettino non ha mai giocato dall'inizio quest'anno, Garitano era un periodo che non giocava mai, Saracco era cinque mesi e più che non giocava, cioè abbiamo cambiato abbastanza, anche per dare spazio ai ragazzi che si sono sempre allenati e si sono sempre comportati bene. Sulla loro correttezza penso che non ci sia niente da dire. Io non ho nessun metro di giudizio per giudicare la salernità.